BAM 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 ! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing Oggi nuovo episodio della rubrica Classics, una rubrica assente da un po' di tempo sul canale, ma quale migliore occasione per farla tornare se non il recupero di questa meraviglia. Sto parlando dello Toys in scala 1 a 6 Movie Masterpiece 4-5-2, ovvero Darth Vader tratto da Star Wars Episodio 5 di Empire Strikes Back. Una doll del 2018 che non vedo l'ora di unboxare insieme a voi per vedere se è invecchiata bene oppure male. Iniziamo come sempre dalla scatola, un po' più lunga rispetto alle normali scatole o Toys, ma per quanto riguarda la forma e il layout, nulla di diverso da quanto di più classico abbiamo visto per quanto riguarda Star Wars. Nella parte frontale la rappresentazione di Darth Vader, mentre impugna la sua spada laser, di un colore secondo me forse un po' troppo acceso, infatti il rosso è appena accennato, mentre nella parte inferiore il logo di Star Wars è codice Movie Masterpiece 452, nominativo di Darth Vader. Nella parte laterale le classiche bande laterali, bande diagonali di un grigio scuro che vanno a prolungarsi fino ai lati della scatola. Nella parte posteriore invece, sempre Movie Masterpiece 452 Darth Vader, logo di Otoys, warning e come vi mostro sempre negli episodi di Classics, questo è l'anno di questa doll, il 2018, quindi stiamo parlando di ben 6 anni fa ragazzi. Iniziamo con l'unboxing, rimuovendo la parte frontale e possiamo vedere questa fantastica slipcover con un'altra rappresentazione di Vader e questa base diorama che vedremo all'interno nella sezione accessori. Nella parte inferiore sempre Star Wars codice e nome ed andando a rimuovere la cover, ecco qui il blister di questa scatola telescopica formata da due piani, qui una serie di accessori, una serie di mani intercambiabili, effetto wash per la spada laser contenuta qui, un pacco di batterie per quello che andremo a vedere fra poco, ovviamente la nostra doll. Andando poi a rimuovere il primo strato del blister, si scopre anche l'altra parte degli accessori, ovvero la base diorama. Detto questo ragazzi, togliamo tutto questo dalla scatola e andiamo a scoprire insieme gli accessori. Ed ecco tutti gli accessori in dotazione a Darth Vader, non sono tantissimi come vedete, ma come giusto che sia per un personaggio come lui. Abbiamo l'effetto wash con la relativa spada laser, diverse paia di mani intercambiabili, un braccio al cui interno è possibile inserire una batteria per illuminare la spada laser, classico supporto per tenere vedervi in piedi, e questa fantastica base diorama che analizzeremo alla fine della sezione accessori. Per quanto riguarda la spada laser, è molto ben dettagliata, con l'alternanza della riniciatura, argento cromato e il nero opaco, invece, dettagli anche dei vari pulsanti e di tutte le piccole parti di cui è composta questa Elsa, davvero molto ben realizzata. Stesso discorso per la classica spada laser, la classica lama, di un rosso molto più acceso rispetto a quanto visto nella scatola, sul fronte della scatola, direi per fortuna, e nulla realizzata in plastica semitrasparente, così come l'effetto woosh, anche esso visto in svariate altre doll dedicate ai Jedi e ai Sith, con questa forma, diciamo, triangolare, che dà appunto l'effetto woosh, effetto di movimento alla spada laser. Non so se voi riuscite a coglierlo dal video, ma l'intensità, ovviamente, del colore va via via a concentrarsi man mano che ci si avvicina a questa parte e la plastica è sempre più trasparente in corrispondenza di questo lato e va via via a concretizzarsi il colore man mano che ci si avvicina all'altro lato. Per quanto riguarda le mani, ne abbiamo di svariati tipi, con varie pose, le fattezze sono incredibili. Questa ovviamente è plastica scolpita, ma ha un effetto pelle molto buono, come potete vedere dalla resa delle cuciture dei guanti. Invece in questa parte, quella che va, diciamo, per intenderci sul polso e sull'avambraccio, come vedete, è in pelle scolpita. All'interno è possibile vedere l'alloggiamento per i peg. Molto buona la realizzazione, ce ne sono di diversi tipi, come vi dicevo, come ad esempio questi per la classica posa, in cui Vader si va, diciamo, ad aggrappare alla cintura, oppure vari utilizzi della forza, questo è per il choke con la forza, questo è per l'utilizzo classico, insomma ce ne sono di diversi tipi, tutti realizzati in modo impeccabile, secondo me. Ultimo accessorio, ma forse il più importante, è questa basetta, che finalmente, sapete quanto io sia legato alle basette, ma in questo caso Hot Toys ha fatto un ottimo lavoro. Basetta composta da diversi pezzi, infatti questo, in realtà, adesso è tutta montata, ma questo, questo e quest'altro pezzo della ringhiera, diciamo, sono pezzi scomposti, che uniti vanno a creare questa meraviglia. C'è anche l'effetto, ovviamente, LED, che può essere acceso da questa parte, che va semplicemente ad illuminare queste due luci, niente di particolare. Buono l'effetto anche di questi tubi tagliati dalla spada laser, e tutto questo va a ricreare l'iconica scena di episodio 5, in cui Vader, ovviamente, dice a Luke di essere il padre. Davvero bellissima, e credo che questa andrà dritta dritta nella mia esposizione. Passiamo adesso ad esaminare Vader, che è una doll, così a primo impatto, davvero eccezionale. È molto massiccia, ben proporzionata, si sente la pesantezza della quantità del materiale che è stato utilizzato per riprodurlo. Il mantello, in tessuto, è favoloso. Adesso lo andremo a guardare meglio. Così come l'Headsculpt, fedelmente riprodotto, è verniciato alla perfezione, ha un piccolo difetto che ho già colto qui sulla parte posteriore del casco, ma la vedremo fra poco. Per quanto riguarda la cintura, anch'essa riprodotta fedelmente, con la funzione, ovviamente, tramite le batterie, di poter essere accesa. E per quanto riguarda il materiale utilizzato, varia dalla plastica, con questa verniciatura nero lucido, e il pleder, quindi la pelle finta, per intenderci. Andando ad esaminare più nel dettaglio l'Headsculpt, innanzitutto il casco, ragazzi, è meraviglioso. È veramente fedele a quanto visto in episodio 5. Qui intanto, andando ad alzare leggermente, vediamo l'allacciatura del mantello, che non ha ancora la catenella che vedremo in altri Vader. Questo è il primo Vader nella mia collezione, ragazzi, quindi starò molto attento nel maneggiarlo. Per quanto riguarda quindi il casco, ha la caratteristica di avere questa parte che può essere rimossa, e a mio parere si rimuove un po' troppo facilmente. Nel senso che questa parte del casco andrebbe fatta collimare con questo foro che vedete qui. Però c'è davvero poca frizione, quindi nel momento in cui lo andiamo a mettere, ovviamente ci sta, non cade, ma basta toccarlo leggermente e si sposta ed è veramente molto semplice da rimuovere. Per quanto riguarda questa calotta, nulla di particolare. La verniciatura è nero lucida, molto ben realizzata, dalla forma abbastanza regolare, senza spigoli né altro. Davvero molto bella. La vera sorpresa però è qui, su quest'altra parte, perché come possiamo vedere, nella parte posteriore c'è la testa, ovviamente sfigurata, di Anakin con questa cicatrice, cicatrice scusate, è resa davvero benissimo, è ovviamente in rilievo, con una verniciatura è differente, giustamente, all'interno della cicatrice, del taglio, mentre il colore della pelle è il caratteristico colore bianco, bianco di Anakin, di questa versione. Belli anche i dettagli del casco in questa parte, che sono ovviamente tutti scolpiti. E andando poi a scendere, ritroviamo questo mantello, come vi dicevo, molto pesante, quindi si percepisce proprio la quantità di materiale che è stata utilizzata. Non è cablato, purtroppo, però va bene così, perché è un mantello che scende molto bene, molto morbido, e sinceramente privo di imperfezioni. Da questa parte invece vediamo tutta la cucitura e questo lembo, diciamo, di mantello di un colore leggermente diverso, un po' più chiaro. E continuando sotto, invece, c'è questa parte degli spallacci, che, come vedete, si possono leggermente sollevare per permettere un migliore movimento alle spalle e alle braccia. E poi, tutto il resto, ragazzi, è veramente indescrivibile per la sua bellezza. Guardate il dettaglio di queste parti in pleder. Purtroppo, sono una grossa preoccupazione per quanto mi riguarda per il posing, perché si sa che Hot Toys, questo pleder, dopo un po' di tempo, purtroppo, rimanendo in una determinata posizione, potrebbe andare a spaccarsi, quindi va protetto, va trattato per farlo durare il più possibile. Qui, la parte, diciamo, meccanica, la parte ingegneristica, se così la vogliamo chiamare, di Vader, che è possibile alimentare tramite questo, qui, questo vano batterie, al cui interno, qui, come vedete, c'è il tastino on e off, qui possono essere inserite due batterie per far sì che venga illuminato, niente di particolare, ragazzi, si illuminano un po' i tastini, niente di che, insomma. Poi, andando ancora a scendere, questa è la parte frontale, realizzata in plastica morbida, qui continua, ovviamente, il pleather, fino ad arrivare, poi, agli stivali, dove, al di sotto, c'è la pelle, questi sono attaccati con un normale scratch, diciamo, quindi vanno, fatti bene aderire i paratibie, e poi, gli stivali, anch'essi in pelle, niente di particolare per quanto riguarda la suola. L'impressione è di avere un pezzo veramente fantastico, vi ripeto, è il mio primo Vader, il primo che ho tra le mani, per quanto riguarda Hot Toys, ho avuto in collezione solo delle versioni più piccole della Black Series e quant'altro, ma non ho mai visto nulla di così bello, sinceramente, per quanto riguarda il personaggio. La cintura, ovviamente, anch'essa in pleather, c'è davvero diversa pelle in questo personaggio, è giusto che sia così, e anche la gonna realizzata con quello che sembra essere lo stesso materiale del mantello, forse il mantello è leggermente più pesante, ma la resa è davvero perfetta, scende molto bene, e qui, altre parti sempre in pelle, è lo scratch per la cintura, che fanno sì che sia tutto al suo posto. Nulla da dire, ragazzi, adesso vediamo un attimino le articolazioni, ovviamente, andando a rimettere la calotta del casco, potrebbero esserci delle frizioni, quindi effettuerò questa operazione senza, la testa può essere, come vedete, rotata, volendo, a 360 gradi, cosa che non farò, può essere piegata in avanti, ma bisogna fare molta attenzione a questa parte affinché non vada a creare frizioni e si possa rovinare, e anche in alto, anche se non troppo, ovviamente il tutto è molto limitato dalla quantità di roba che ha addosso questo Raider. Per quanto riguarda le braccia e le spalle, c'è una butterfly joint che non riesco benissimo a farvi vedere, ma è presente, possono essere alzate, più o meno fino ai 180 gradi facendo sempre massima attenzione e sia in avanti che ovviamente indietro, il tutto comunque è sempre molto limitato. Doppia articolazione ovviamente ai gomiti, entrambi ovviamente, e il busto che fa una leggera flessione in avanti e indietro così come lateralmente, però anche qui tutto molto limitato ragazzi. poi per quanto riguarda le gambe possono ruotare e essere portate in avanti ma davvero poco, poi io non sto forzando tantissimo, magari potreste guadagnare qualche millimetro, ma è davvero limitato il movimento delle gambe così come quello all'indietro dovuto ovviamente al pezzo di plastica del sedere di Anakin, di Vader, scusate. Poi, doppia articolazione ovviamente al ginocchio che permette di andare oltre i 90 gradi e anche piede articolato in tutte le direzioni, sia lateralmente che in alto e in basso. Davvero un ottimo pezzo questo ragazzi, io sono veramente contento di averlo recuperato in extremis e niente, tra l'altro l'episodio 5 è un film meraviglioso e Vader era senza dubbio un personaggio da aggiungere alla collezione. Ed eccolo qui esposto sulla base diorama in dotazione davvero stupenda. Guardate che bella figura che fa questo pezzo in collezione. Qui lo vediamo con Luke di episodio 5 e 6 e l'immancabile Darth Sidious l'imperatore. davvero bellissima ed è un'imponenza disarmante ed è davvero un'ottima aggiunta alla collezione. Il mio primo Vader ci voleva. Ed eccomi qui ragazzi in compagnia di Vader per le conclusioni finali su questa doll meravigliosa. Il mio primo Darth Vader già l'ho detto altre volte nel corso del video però è strabiliante la sua imponenza la sua bellezza tutto è ricreato nei minimi particolari. Purtroppo ho riscontrato qualche difetto come quello della calotta del casco o qualche problemino anche con i peg delle mani purtroppo questo è un difetto che otois si porta dietro da sbagliato tempo e con diverse doll. La cosa preoccupante per quanto mi riguarda è il posing duraturo nel tempo o meno perché appunto il pleder la pelle sappiamo tutti se lasciata in una determinata posizione per troppo tempo tenderà poi ad indurirsi e di conseguenza a spaccarsi se non trattata nella giusta maniera. È ovvio che non mi aspettavo di trovare una doll in vera pelle che non risente di questo tipo di problemi almeno non negli stessi tempi del pleder però ecco è un qualcosa un'altra piccola miglioria piccola grande miglioria che potrebbe fare otois per implementare ancora di più queste creazioni meravigliose che continua a fare. Questa è una doll del 2018 di sei anni fa quindi abbastanza datata però guardate le fattezze di questa meraviglia quindi mi sento di dare ovviamente un 9 pieno sono come al solito severo voi lo sapete però al di là di qualche piccolo difetto quella rimane comunque un pezzo incredibile mi viene voglia di avere altri Vader sto aspettando quello di Obi-Wan Kenobi che sarà comunque un Vader completamente diverso per tanti aspetti che andrà esposto con il casco spaccato visto che appunto sono riuscito a reperire questo però ragazzi che dire doll meravigliosa consigliatissima se vi dovesse capitare di trovarla a un prezzo vantaggioso insomma vi consiglio come sempre di recuperare dei pezzi del genere potrebbe esserci anche una ristampa in questi giorni soprattutto è nell'aria qualcosa di legato appunto al dark side al lato scuro da parte di Hot Toys quindi mi sento di dire che potrebbe anche essere che questa stessa doll tratta da episodio 5 potrebbe essere riprodotta detto questo ragazzi io vi saluto fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti che cosa ne pensate se ce l'avete in collezione e se vi è piaciuto ovviamente il video io vi saluto ragazzi ci vediamo al prossimo contenuto e al prossimo unboxing ciao a presto ciao